E' operativo da qualche giorno il campo Covid realizzato all'interno dell'ex CARA, il centro di accoglienza per richiedenti asilo di Borgo Mezzanone che si trova ad una decina di chilometri da Foggia. La struttura è realizzata dalla protezione civile della regione Puglia e dotata di 50 moduli abitativi per consentire una gestione diretta in loco dei casi riscontrati di positività tra i migranti che alloggiano sia nell'ex struttura di accoglienza sia nell'ex pista di Borgo Mezzanone dove si trova la baraccopoli e dove vivono circa un migliaio di migranti. Qualora i positivi ospitati nel campo Covid dovessero aggravarsi verrebbero trasferiti nelle strutture sanitarie. Inoltre nel campo Covid saranno ospitati anche eventuali familiari che saranno sottoposti ad una quarantena fiduciaria. La gestione logistica del nuovo campo è stata affidata alla Federazione delle Misericordie di Puglia come ci spiega Gianfranco Gilardi, presidente regionale. È un campo che nasce esclusivamente per volontà della regione Puglia e della protezione civile ed è gestito a livello ovviamente sanitario e anche di coordinamento dall'ASL di Foggia. Noi abbiamo la parte logistica che è quella appunto di ausilio alla comunità eventuale che possa esserci nel campo e insieme poi alle forze dell'ordine c'è tutto il monitoraggio che è di loro competenza. Quanti container ci sono attualmente? Ci sono 50 moduli abitativi, comprensivi anche dei servizi e che sono appunto stati posizionati e adattati proprio per questo tipo di accoglienza. E quindi 50 moduli che prevedono appunto la presenza di 50 persone come capienza. Attualmente ci sono già alcuni ospiti in questi, alcuni positivi o comunque alcuni migranti in questi container? Sì, ci sono 5 migranti, diciamo per fortuna tra più in volette insomma perché questo è un aspetto chiamiamolo positivo, e sono 5 migranti che sono sospetti e qualcuno in quarantena. E a cui noi poi forniamo anche tutta l'assistenza necessaria, materiale e quindi anche di vicinanza se vogliamo.